Sì, volevo chiederle Presidente sull'ordine dei lavori se poteva dirci in base a quale articolo del regolamento lei stamattina ha ritenuto di stralciare l'interpellanza della mia collega Nanni, perché un'interpellanza si ritiene eventualmente non presentabile se la persona non è in aula. La nostra collega Nanni era in aula e quindi vorremmo capire per quale motivo non ha potuto presentarla, anche per evitare di creare precedenti, che lei su sua iniziativa possa decidere di stralciare e di togliere dall'ordine del giorno in maniera discrezionale mozioni, interpellanze. Siccome nell'articolo relativo alle interrogazioni 114 e successivo si precisa che qualora l'interpellante non sia presente in aula, l'interrogazione si intende ritirata, io ritengo che un'interpellante è presente in aula ma che non prenda la parola sull'oggetto al quale è stato riferito l'intervento è come se non fosse presente in aula. Presidente, io apprezzo molto la sua fantasia nell'interpretare il regolamento, però che mi dica che la Nanni non era presente nel momento in cui c'era a discutere l'interpellanza non lo posso accettare. La Nanni era presente, casomai lei poteva dare per letta l'interpellanza però farla eseguire. Lei sta creando un precedente molto pericoloso in cui il Presidente del Consiglio si arroga il diritto di cancellare un atto dall'ordine del giorno. È un precedente molto pericoloso, quindi io la invito a ritornare sui suoi passi. No, io non ho detto che la Consigliere Nanni non era presente in aula, Consigliere Corbetta, ho detto che era presente e che ha ricevuto da me, come risulta dalla registrazione, per almeno tre volte la parola per illustrare l'interpellanza. Non avendola illustrata ho inteso che la Consigliere Nanni gli avesse rinunciato. No Presidente, allora qui non può essere una cosa del genere, cioè come può lei interpretare che la collega Nanni non fosse presente in aula. Lei stava difendendo la sua posizione. Consigliere Maccabiani, questo non glielo consento perché le ho già risposto. Lei l'ha detto tre volte. Ho detto che la Consigliere Nanni era presente in aula, tanto che ha ricevuto tre volte la parola. Il punto non è se fosse presente o no, ma che essendo presente non è intervenuta sull'argomento chiamato all'ordine del giorno. Presidente, non può stralciare un atto in questo modo. D'accordo, credo che su questo conserviamo una diversità di valutazioni.